Buona giornata con l'Almanacco Barbanera. Oggi è il 7 agosto, si ricordano i santi Sisto II Papa e compagni martiri. Il nome Sisto rappresenta una variante del nome Sesto, ma secondo alcune teorie potrebbe in parte derivare dall'antico tedesco Sigist, che significa guerriero vittorioso. Dice il proverbio, se le nuvole vanno al mare, bel tempo vuol fare. Sono nati oggi Mata Hari, Gerry Scotti, Marco Melandri. Il 7 agosto 1420 inizia a Firenze la costruzione della cupola di Santa Maria del Fiore ad opera dell'architetto Filippo Brunelleschi. È la più grande cupola in muratura mai costruita. È del 7 agosto 1566 il cosiddetto fenomeno celeste di Basilea. Secondo le cronache dell'epoca, la popolazione vide apparire in cielo grandi dischi che volavano a grande velocità, come se stessero danzando o combattendo. Infine, il 7 agosto 1974, il celebre funambolo Philippe T. compie la sua impresa più famosa camminando su un cavo d'acciaio teso tra le cime delle Twin Towers di New York. Giulio Cesare ha detto, generalmente gli uomini prestano fede e volentieri a ciò che desiderano. Arrivederci da Barbanera dal 1762, l'almanacco più amato d'Italia.